Nuovo bando del Comune di Arezzo per i lavoratori che si trovano in cassa integrazione e che potranno essere impegnati nei lavori socialmente utili. Abbiamo immesso un bando che non è la prima volta che mettiamo perché il primo è stato immesso a fine 2015 con il quale ricerchiamo del personale operaio che andrà a collaborare con gli operai dipendenti dell'amministrazione comunale e nello specifico ci rivolgiamo a quelle persone che sono in cassa integrazione o in mobilità, ovvero quelle persone che percepiscono un assegno di disoccupazione dall'Inps. Se queste persone hanno un periodo di disoccupazione, cioè prendono un assegno di disoccupazione per almeno un altro anno, potranno partecipare al bando dell'amministrazione e lavorare insieme ai nostri operai, inoltre gli verrà riconosciuta un'indennità aggiuntiva rispetto all'assegno che prendono. I requisiti sono requisiti abbastanza basici, se andiamo a parlare di operai quindi non c'è bisogno di avere chissà quale formazione nel caso in cui ci sia un minimo di esperienza in settori di edilizia piuttosto che stradali. Meglio è, diversamente sarà l'amministrazione a farsi carico di corsi di formazione necessari per poter operare nei settori di riferimento.